Riaprirà il 7 gennaio a senso unico alternato il tratto della statale Due Cassi a Trabadì a San Salvatore e Radicofani, franato sabato a causa del maltempo. Nelle immagini vedete proprio il tratto in cui si è verificato il cedimento lungo il fiume Paglia. Questo è stato il danno più rilevante della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Toscana il 21 e 22 dicembre. Il presidente Enrico Rossi ha incontrato i sindaci del territorio e ANAS e ha ricordato che quel tratto del fiume Paglia è sotto la gestione del consorzio idraulico della Val di Paglia, un consorzio laziale. Le notizie sono che l'ANAS sta lavorando insieme al genio civile della regione toscana, insieme a tutti noi, per ripristinare le cose almeno subito dopo l'epifania. Ma questo non basta, vogliamo fare un intervento di più ampio respiro, cercherò di coinvolgere anche la ministra e cercheremo di dare il segnale che si comincia a rimuovere le tante frane delle strade provinciali e si consolideranno alcune strade sempre provinciali che ne hanno estremamente bisogno e quindi un piano anche un po' più di ampio respiro per fare le sommergenze e mettere in sicurezza il territorio. Rossi ha detto che chiederà al Governo una nuova dichiarazione di Stato di emergenza nazionale. E proprio per questo faccio un appello al Governo, faccio un appello al primo ministro Conte, a cui cercherò insieme agli auguri di chiedere attenzione, perché ci sia riconosciuto, oltre che qualche finanziamento, anche un'altra volta purtroppo la dichiarazione dello Stato di emergenza. Noi pensiamo che intervenire in condizioni di emergenza non significa che prima non abbiamo fatto prevenzione. In questo caso forse poteva essere fatta, poteva essere regimato meglio da parte del Consorzio Etruria Meridionale, che è il Consorzio del Lazio, non della Regione Toscana. Però non è questo il punto. Noi vogliamo vedere se anche intervenendo in fase di emergenza si creano le condizioni perché i cittadini possano sentirsi più in sicurezza e tranquillamente.